Ciao a tutti, buongiorno, perdonate la faccia ma è l'inizio della giornata, non do il meglio di me stesso Battute a parte, voglio fare un breve video sul mio attuale pannello fotovoltaico preferito Mi è venuta in mente questa cosa perché l'altro giorno un progettista che si sta costruendo la propria abitazione Mi ha chiesto un consiglio sul materiale che potrebbe utilizzare per avere un migliore rapporto qualità prezzo Allora ti voglio condividere queste informazioni e iniziamo dal pannello fotovoltaico Ovviamente non è una legge matematica però è un mio parere sulla base del rapporto qualità prezzo Questo è un modulo di nuova generazione da 420 watt cada uno Pur rimanendo nella classica versione da 60 celle o 120 semicelle come dicono quelli bravi Che ha due caratteristiche fondamentali Innanzitutto la classe contro il fuoco è la numero uno Quindi significa che un pannello fotovoltaico ignifugo è molto sicuro per evitare incendi sul tuo tetto E il secondo aspetto è che la garanzia di durata negli anni non è di 25 anni come normalmente è previsto nei moduli fotovoltaici Ma arriva a 30 anni che se ricordo bene è la stessa garanzia che danno i molto più costosi e rinomati SunPower Tieni conto che è vero che questo prodotto viene realizzato in Cina Ma è anche vero che SunPower produce in Polonia Quindi con il massimo rispetto per gli amici polacchi A mio modesto parere non si giustifica il fatto che un pannello di marca costi tre volte tanto rispetto a questo prodotto che ti sto consigliando Ovviamente come ho detto al progettista Io non so se tra 10, 20, 30 anni avrai un pannello che si è rovinato O un pannello da sostituire Però come rapporto qualità prezzo ripeto questo modello te lo consiglio caldamente Lo puoi comprare da me o da chi vuoi tu però te lo consiglio Due ultimi dettagli Questo pannello lavora bene anche in condizioni di scarsa luce Ed è resistente al sale Quindi se vivi in zone vicino al mare è ancora più consigliabile Bene, un saluto a tutti da Marco Faito, esperto del fotovoltaico Ciao